Cina. Lanciato primo satellite con tecnologia 6G. Il razzo con connessione di sesta generazione, più veloce del 5G. Mentre in diverse aree del pianeta continuano i lavori per l'installazione della rete 5G, la Cina sta già operando per realizzare la rete internet di sesta generazione. La 6G. Un razzo, Long March 6, sarà il primo satellite dotato di 6G al mondo. Realizzato attraverso la collaborazione con King Du Waxing Aerospace Science & Technologico e Beijing Weinaxing Kong Technologico, il razzo verrà usato per l'osservazione del terreno attraverso il telerilevamento con l'obiettivo di potenziare i settori di edilizia urbana, agricoltura e monitorare i disastri forestali. Contemporaneamente però, il vettore sarà in grado di testare la comunicazione 3Hz. Il satellite, di oltre 70 kg, farà parte di una piattaforma globale che userà questo tipo di comunicazione attraverso l'alta velocità di trasmissione e all'integrazione di diverse tecnologie. Sempre in Cina, il colosso di Shenzhen Huawei starebbe sperimentando già dal dicembre del 2019 sulla rete di sesta generazione. Intanto le autorità stanno completando l'installazione della rete 5G in tutto il paese.